Milioni di cittadini italiani e europei non ne hanno mai sentito parlare. Ma il TTIP è destinato a cambiare la nostra vita quotidiana. È un accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Europa che avrà impatti irreversibili sulla nostra società. Imporrà la privatizzazione di tutti i servizi pubblici. Cambierà le regole e i controlli che tutelano i consumatori, l'ambiente e la salute. Darà vita a un tribunale speciale più potente di qualsiasi altro. Grazie al quale le aziende private potranno denunciare un intero paese se approva una legge che minaccia i loro profitti. I negoziati per questo trattato si svolgono in segreto. Tenendo lo scuro i parlamentari e l'opinione pubblica. In Italia centinaia di associazioni, di cittadini, di enti locali hanno aderito alla campagna Stop al TTIP. Chiediamo il blocco di questi negoziati e l'apertura di un dibattito pubblico e trasparente per tutti. Il 7 maggio scenderemo in piazza per esprimere il nostro dissenso. Unisciti alla campagna per fermare l'accordo più pericoloso di sempre. Partecipa alla giornata di mobilizzazione. Firma la petizione che chiede a comuni e regioni di lottare contro questo trattato. Possiamo bloccare questa minaccia se ci sarà l'apporto di tutti. Attivati adesso per mostrare una volta per tutte che l'Italia è Stop TTIP. Stop TTIP. Stop al trattato TTIP. Stop a TTIP. Stop TTIP. Stop TTIP. Grazie.